Scende dal 73esimo posto del 2017 all'89esimo posto nella classifica redatta da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma, la provincia di Salerno in base alla qualità della vita, come emerge dalla tradizionale indagine che mette insieme le principali aree del paese secondo pregi e difetti. Salerno, che occupa in campagna la posizione più altra tra gli altri capoluoghi, deve registrare comunque la discesa verso il basso, consolandosi di essere sopra Benevento, scivolata al 95esimo posto, Caserta al 104esimo, una posizione in più rispetto ad Avellino che si colloca al 105esimo posto e Fanalino di Coda Napoli al 108esimo posto. Stabile rispetto allo scorso anno, ma distante solo di due posizioni dalle ultime della classifica, Catania e Vibo Valencia, classifica che vede in cima Bolzano, seguita come l'anno scorso da Trento e Belluno. Sono nove i criteri che hanno determinato la media finale, le province e quindi anche Salerno sono state valutate in base a diversi indici. La valutazione per esempio sulla criminalità vede un miglioramento per la provincia di Salerno che rispetto al 2017 passa dal 70esimo al 65esimo posto, ma in questo caso vede più in alto nella classifica le altre campane, Benevento che è 29esima ed Avellino al 51esimo posto. La provincia di Salerno risale delle posizioni anche prendendo in considerazione l'indice che ha valutato il lavoro, passando dal 92esimo posto del 2017 all'attuale 86esimo posto, mentre è quasi Fanalino di Coda per tenore di vita. Salerno infatti prendendo in considerazione questo indice della classifica di Italia oggi è 107esima, mentre a chiudere la classifica di questo indicatore sono gli altri capologhi campani, nell'ordine Caserta, Napoli e Benevento. Infine per chiudere l'analisi del territorio salernitano in base alla classifica di Italia oggi, Salerno è 66esima per tempo libero e turismo, ma 93esima per salute. Grazie a tutti.